Io sono appena arrivato, oggi è il secondo che inauguro, l'altro giorno eravamo a Montepulciano e dirò anche con molta soddisfazione. Io sono dell'idea che aziende come queste, in un momento in cui noi cittadini siamo assaliti anche telefonicamente tutti i giorni da un mercato impazzito, puntare sulla vicinanza, la presenza sul territorio, mettere la faccia diventa un valore aggiunto per la notte azienda. Nuovo store extra ad Arezzo è stato inaugurato nelle scorse ore al numero 34 di Piazza Giotto. Un motivo di grande soddisfazione quando si aprono ulteriori store, siamo stati il primo operatore nazionale ad aprire questi luoghi di incontro con la clientela, dove ci si può chiarire, dove si può accogliere le nostre proposte. Sappiamo quanto sia faticoso sostenere la bolletta energetica in questo periodo, sia per famiglie e imprese, è importante distinguersi con questi interventi che rafforzano la prossimità di un'azienda che crede nel rapporto con il territorio. Grazie anche a partner, agenti come la società Meta, che è di qui dell'area retina, esprimiamo questo rapporto di vicinato che ci deve distinguere nel mercato. Estra non si deve scegliere soltanto perché ti dà un buon servizio, ha un buon costo, ma si deve scegliere perché è l'agenzia energetica di prossimità, è la tua azienda di riferimento territoriale. E questo è uno di quegli elementi che rafforza questo elemento di distinzione commerciale. Nello store, che si aggiunge a quello di Via Garibaldi, è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica, ma questi nel futuro diventeranno punti di riferimento anche per le comunità energetiche. Sì, c'è la possibilità appunto, oggi che i decreti attuativi sono stati finalmente approvati dalla comunità europea, di far partire le comunità energetiche rinnovabili, e quindi questi punti di prossimità possono essere uno stimolo ulteriore al quale i cittadini si possono rivolgere proprio per avere informazioni e per divulgare come funziona e quali vantaggi si possono avere aderendo alle comunità energetiche.